La partita è chiusa. Attilio Fontana è stato riconfermato alla presidenza di regione Lombardia. Quel 54,67% di preferenze, andato allo schieramento che lo sostiene, composto da Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lombardia Ideale e Noi Moderati, di fatto mantiene una rotta confermata anche dai risultati dell'altra regione alle prese con la tornata elettorale, il Lazio, in cui ad imporsi è stato il centrodestra di Francesco Rocca. Un voto, quello di queste regionali, che qualche riflessione deve metterla in moto. Dopo giorni, mesi di schermaglie incrociate, di insulti sui social che non hanno risparmiato nessuno, spesso con attacchi personali, ora ci si barrica dietro al paravento, all'alibi, troppo facile, dell'astenzionismo. Fenomeno che ci vede fanalino di coda su scala regionale e penultimi solo a Mantova. Beh, forse dovremmo tutti reimpararla la politica. Una cosa che si fa con l'arma del voto e non a forza di posta avvelenati, scritti dietro ad una tastiera magari nascosti dall'anonimato. Seconda a Fontana c'è l'alleanza del DEM Pierfrancesco Maiorino col 33,93% delle preferenze. A Letizia Moratti, impegnata in corsa assieme ad Azione Italia Viva, tocca accontentarsi di un terzo posto, sfiorando il 10% dei voti. A Maraghi d'Orzi, di Unione Popolare, un 1,53%. Nella provincia di Sondrio la Lega si conferma il partito più votato, con 15.437 preferenze. Massimo Sertori, che correva in coppia con Silvana Snider, vince così la corsa a consigliere di Regione Lombardia. L'assessore regionale a enti locali, montagna, piccoli comuni e programmazione negoziata, riceve più consensi di tutti, proprio come è accaduto nel 2018, e si porta a casa 7.907 voti. Abbiamo avuto la possibilità di spiegare ai Varchiavennaschi e ai Vartellinesi quanto fatto fino ad ora, quindi mi riferisco in particolare alla legge sull'idroelettrico e i tanti benefici che porta sulla nostra terra, ma anche alle Olimpiadi. Avremo la possibilità, abbiamo la possibilità di finanziare opere che erano attese da anni, alcune di queste sono già partite. Abbiamo già intravisto con questi elementi ed altri ancora, quale potrà essere il futuro che insieme potremo costruire per Varchiavenna e Vartellina. Ci sono anche delle criticità, penso alla sanità e alla carenza che ormai è diventata cronica di personale sanitario. C'è molto lavoro da fare, ma io credo che siamo nella direzione giusta. Una gran bella campagna elettorale, un full immersion in mezzo alla gente, incontrare tanta gente anche per la strada che voleva essere informata, che ti sorride, diciamo tornare a fare politica come si faceva ai tempi, come la Lega è abituata a fare. Secondo partito ad essere più votato nella nostra provincia è quello di Fratelli d'Italia, andato forte in Alta Valle, anche a causa degli endorsement manifesti a suon di posta dei sostenitori del movimento rinascita Morelli Autonomo e per il quale a correre assieme erano Carla Cioccarelli, seconda assertori nelle preferenze accumulate, e Corrado Pini, 11.170 ai voti loro riservati. Il risultato nostro è certamente positivo, di questo siamo contenti. è innegabile che la Lega ha avuto un risultato di molto migliore, quindi evidentemente facciamo i complimenti ai nostri alleati di coalizione che hanno fatto una campagna elettorale che evidentemente ha portato i suoi frutti. Nella classifica dei più eletti il terzo gradino del podio va al PD di Maiorino, che nella nostra provincia, dove i candidati erano Michele Iannotti e Alba Rapella, guadagna 8.831 consensi. Una considerazione a margine di queste regionali lasciatecela fare. Il vero vincitore dell'ultima tornata elettorale è chi ha preso la matita in mano ed ha esercitato il proprio diritto a un voto che, come cita la Costituzione italiana, è personale ed uguale, libero e segreto, e l'esercizio del quale è un dovere civico. Anche se è più facile scrivere Proclama Avvelenati su Facebook.